Montegiorgio e Olimpia e Nonese scendono in campo al Villa San Filippo causo all'indisponibilità del Tamburrini, ricoperto da una coltre di neve, compatta, che ha reso necessario lo spostamento. I padroni di casa arrivano dal doppio stop dopo la ripartenza post-covid, mentre gli alto molisani si presentano con una formazione pressoché rinnovata, con ben nove innesti, alcuni dei quali scendono in campo dal primo minuto per cercare di risarire Rachina, che li vede con soli tre punti all'attivo. Sin dai primi minuti è chiaro che il Montegiorgio voglia tornare a smuovere la classifica, al sesto sono proprio i padroni di casa a farsi vedere in avanti con un corner battuto da Omiccioli, che trova Mandolesi, il quale però manda sul fondo. Al diciannovesimo il risultato si sblocca, punizione battuta da Omiccioli e che allarga verso Misin, il numero 8 al debutto dal primo minuto mette dentro in modo teso, sulla trattoria si trova Rachina, che insacca nella propria porta. La reazione degli alto molisani tarda ad arrivare e i rosso-blu vanno ben due volte vicini al raddoppio, con Cucù che arriva davanti a Landi che gli sbarra la strada al ventunesimo, poi, quattro minuti dopo, si allunga il pallone e l'azione sfuma. Al trentanovesimo i rosso-blu raddoppiano, Misin serve al Banesi che lavora bene lungo l'out destro, poi crossa al Baccio dove Mandolesi al volo insacca. Il risultato si mette in discesa per il Montegiorgio che, anche nella ripresa, riesce a tenere a bada la seppur blanda reazione degli uomini di Liguori. Al nono, Bottalico serve del Gaudio, ma Gagliardini è attento. Al quarto d'ora, azione di forza di Montanaro che batte verso il primo palo, ma Landi è reattivo, poi Cucù non riesce a ribadire nel rete la palla vagante. Al ventiduesimo arriva la più grossa occasione per l'Olimpia agnonese di tutto il match. In entrato, grazioso, calcia un angolo dalla destra. Gagliardini è incerto nell'uscita e Padovani non riesce a mettere dentro, a porta praticamente sguarnita. Alla mezz'ora ci prova Zancocchia, ma il suo sinistro è largo. Entra Lupoli e al quarantatreesimo avvicino al Tris, Trillini pennella per la testa dell'ex Fermana che però è sfortunato perché Landi, con l'aiuto del palo, riesce a respingere. La gioia è rimandata di solo i 60 secondi quando lo scatenato Montanaro sfonda sulla sinistra e crossa trovando il perfetto inserimento del biondo attaccante che firma il 3-0. Scorrono i titoli di coda su un match che non è mai stato in discussione, che ha visto il Montegiorgio tornare a camminare, mentre per l'Olimpia agnonese la strada diventa sempre più dura. Sì, era importante soprattutto i tre punti perché dopo due sconfitte era importante morire la classifica. Sono contentissimo dell'atteggiamento dei ragazzi perché hanno capito che comunque in questo momento è stato un momento di difficoltà, si vede anche fisicamente, soprattutto su qualche atleta. Ce lo sappiamo, dobbiamo lavorare proprio con questa difficoltà, è una nuova sfida. È difficile gestire gli allenamenti, è difficile tante cose, però quando un allenatore è un gruppo che comunque ha la voglia di tirarsi fuori, penso che è la cosa principale. Poi è capitato mercoledì di incappare in degli errori, oggi abbiamo fatto un po' meglio e anche se comunque il Montegiorgio che eravamo prima del Covid sicuramente era un'altra tipologia di squadra, però secondo me piano piano col sacrificio e la voglia dei ragazzi possiamo ritornare a quel livello. Soprattutto il primo gol, i primi due gol che abbiamo preso sono frutto di due disattenzioni, sono due palle inattive, senza nulla togliere a Montegiorgio e come ha fatto l'altro partito. Noi diciamo che il nostro cammino è cominciato martedì, abbiamo fatto una rifinitura e siamo andati a giocare, giovedì, venerdì abbiamo fatto allenamento, sabato non perché c'è la neve, quindi piano piano la società sta facendo uno sforzo per allestire una squadra che ci deve portare alla salvezza.